se siamo capiti prendi tutti questa è una rapina te non fa scherzi eh ok calmo ok ti do tutto quello che vuoi gioielli soldi tutto ti do tutto tutto? no no voglio quello voglio quello no quello no voglio quello e basta no e che solo perde Shaka Film Fest? e questo è il trailer che promuove la non edizione dello Shaka Film Fest manifestazione organizzata dalla Vertigo SRL che si terrà dal 24 al 28 agosto a Shaka la regia e il montaggio del videoclip è stata curata dal sacenze a Cursio Graffeo nasce da diversi anni la collaborazione con lo Shaka Film Fest quest'anno abbiamo dato una svolta diciamo agli spot girandolo a Roma quindi è stato Sino Caracappa che mi ha contattato e mi ha detto perché non lo giriamo a Roma diamo questo aspetto diverso e io ho accettato volentieri anche perché a Roma una troupe di professionisti che lavorano con me da variati anni e soprattutto ho avuto la possibilità di avere due attori professionisti una è Crisola Stafida che è un'attrice professionista che ultimamente ha girato per esempio il film con Federico Zambagnone e poi c'è Valerio Desirò che è un attore che ha collaborato con i De Pils quindi per me è stata una doppia soddisfazione averli nel cast artistico diciamo che l'idea è pure particolare si vede questo rapinatore con la maschera che rappresenta sempre il nostro sub che c'è sempre negli spot e quindi chiso verde o Shaka Film Fest è una manifestazione molto importante legata al territorio di Shaka ma non solo che coinvolge dal punto di vista cinematografico l'intera regione sì, non solo l'intera regione io sto aiutando appunto Sino Caracappa a fare delle selezioni dei cortometraggi e devo dire che quest'anno ci saranno dei cortometraggi internazionali dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania quindi stiamo cercando di rinnovare anche e estenderlo proprio a livello mondiale perché appunto è una manifestazione già ricca di sorprese ma noi la arricchiamo ogni anno sempre di più grazie anche a tutti i collaboratori appunto dello Shaka Film Fest e cercando appunto di dare sempre quell'innovazione culturale che fa parte appunto dello Shaka Film Fest i tempi di lavorazione del trailer? guarda i tempi di lavorazione sono state una giornata per girare abbiamo girato in uno dei migliori cinema d'Italia il Caravaggio di Roma e poi va a concitere con l'ultima partita purtroppo dell'Italia quindi alle nove dovevamo smontare tutto e poi c'è stata una post-produzione color correction musiche originali fatte da Dario Gioffrida che è un nostro conterraneo quindi diciamo che è stata una cosa studiata con degli storyboard e delle sceneggiature prima quindi c'è stato tanto da fare però è riuscito bene perché stiamo avendo più di 10.000 visualizzazioni su internet quindi credo che l'esperimento è riuscito uno spot nel bene o nel male quando si parla funziona